Il 2024 sarà l'anno delle radici italiane. E sai di che cosa si tratta? Pensa che sono ben 60 milioni gli italiani immigrati nel mondo, secondo i dati di Confcommercio. I nostri connazionali, che per vari motivi hanno lasciato l'Italia, amano il nostro paese e la nostra straordinaria bellezza. Il progetto Turismo delle Radici consentirà agli italiani discendenti, oriundi italiani, di scoprire i piccoli borghi e le aree rurali all'origine del fenomeno migratorio italiano. È un'ottima strategia per costruire un'offerta turistica autentica che consenta di far apprezzare la bellezza, la cultura e le tradizioni secolari dei borghi da cui sono partiti i loro avi. Si stima che il progetto inserito nel PNRR, nella strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post-Covid-19, potrebbe generare una spesa annua in Italia molto vicina agli 8 miliardi di euro. Grazie a questa misura si incentiveranno sia l'utilizzo dei canali digitali, sia la ricerca di documenti sulla storia familiare che passerà dai siti web. Scoprire le proprie origini e conoscere i piccoli borghi delinea maggiormente i principi della vera cultura italiana. Può muovere le eccellenze dei territori e il saper fare italiano sono anche uno strumento per valorizzare aree meno conosciute e meno note dell'Italia. Le nostre radici sono importanti e promuovere il nostro territorio è una mission che portiamo avanti anche in Europa tutti i giorni. Grazie. Grazie.